vai 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 vieni vieni cazzo vai 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 perché mi ha attaccato porca troia andiamo subito al centro corri corri dai per favore voglio salvarti ok ok perfetto perfetto si si ho due run però ok andiamocene a casa porta a casa il buttino fai mostra mostra la duend aspetta io hooo ok 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 ok